della ps4 non è quali ti sei un programma chiamato di s4 windows e che tutti i mappi tutti tutti i tasti ho capito e ok ciò quello che mi dà la c'ho questo qua la quest io c'ho range aumentato oppure gli autoattacchi mi danno 10 di movement speed che stacca infinitamente sembra tutto molto forte vado on it che kaito o no dai ma qui non c'è nessuno da cliccare tanto vado a che io ho 215 di ap comunque potrebbe essere tanto minchia potrebbe essere tanto o questo è il quattro ma quanto li ho tolto o ma questa questa tizia non non me la stacco di dosso eh io faccio troppo danno è illegale partire con questo oh mio dio no questo c'è ferma ah sì è scoppiato il fiore ma non poteva fermarsi io la posso c'è guarda da quanto d'attacco bro sì ma tu ti rendi conto di cosa ho preso ma hai visto che io c'ho una large con 150 di ap è no ma ho visto ti da rabadon più zogna dopo devi comprare rabadon zogna come primi item no ma è trollato così non puoi fare energized le blank a ma io ma io non me lo ricordavo visto quello ma dai ma vuoi che non prendo un coso che mi dà 150 da p è livello 1 ma stai scherzando è illegale hai avuto la neuron activation e visto un paio di tette gli fanno tipo oh come potevo non comprarlo ma stai scherzando è troppo forte puoi fare puoi fare magari li puoi fare comunque gli energized se trovi questo item è importante vedi questo qua fulmination se lo trovi magari c'è anche con la p actually aspetta ma sì ma c'è questo è ecco è quello cui si chiama non lo so chat come si chiama qualcuno lo saprà per forza ok l'ho trovato run carver run carver si chiama a quello di link damage mutabitica rennes for desensi se forse è quello però funziona diverso da quell'altro capito ma che devo prendere quello di mi fa molto male questa cale anche lei c'ha 200 di ap a cavoli or che misere ok io vorrei fare danno ma ancora non mi viene ok se non avessi avuto questa pila è stato però ho trovato il fulmination first item ora che miseria che culo questo tutto un po schifo che goduria bravo what the fuck 100 di ap 30 armor 30 magic resist non so se prenderlo è il cruelty quello che c'è la esprima che fa la comet oddio no se no whenever in a bit is used near you gain a charge no dai perdono non è male dai buono o ascoltami da 100 di ap con rabadon poi diventa tanto odio nasus è pericoloso per te si ma li tiro la comet a questo vai ok gg gg però mi ha fatto già 1100 danni che cosa il a quel affare lì si minchia se ho capito guarda quanto danno fa l'energized attack 10 per cento della vita attuale delle ma tu hai fatto mille cosa con quell'item quante volte le hai broccato non lo so tre mi sa per causato la catena tre volte quattro per quattro volte perché si fa 300 danni quattro volte minchia forte se però che la catena fai un bar sta allucinando e si perché gli fai essi non è male per niente tutto max alla catena secondo vabbè ah li devo andare rabadon e dopo zonia non so se andare rapid fire io o storm razor rabadon e zonia ok vabbè io ho finito quelli broken per me adesso vado full energize no ne frega un calzo di questi ma si vedi un po te ma ecco il rapid fire cannon adesso stati che fa un sacco di danni grazie roger grazie mille del resab però ho pensato questo mi da un sacco di come spedere vabbè ma dov'è andata? eh l'ho uccisa l'ho shottata c'ho 500 da p mamma mia che size bro ma che danni stai tirando fuori eh ma è leggermente forte la build che ho fatto ma appena ti chiudi zonia c'hai il coso che ti potenzia ancora è huge vai shadow flame è finito oh mio oh porca miseria no per un secondo nami ce la poteva fare nami stava ammazzando a kali e mo augmente fleet footwork vado fleet? io ho la ulti di thamkent se vuoi dai proviamo la vuoi la ulti di thamkent? no che me ne faccio? mi puoi mangiare? si e ti rendo intergettabile per 4 secondi no vabbè sti cazzi rollo oh ferra strike non è male ma si dai purtroppo non c'è di meglio vuoi andare anche in finito è la ulti di kalista ah di tali ah la ulti di kalista oddio la kalista ha più senso no sono un idiota ahia no i'm dead porco dio no sono morto di bleed oh sta accetta di merda mi ha rotto il cazzo sono entrato per sbaglio nella cage di veigar porca puttana eh però mi stai restando qua ehi mamma mia sto gin ha rotto il cazzo gin ci sta ammazzando tutti oh allora madonna che danno fa la fatta rabatonzone mi mancherà rapid fire sono full energize se gravete ci ho il mega cappello Deido ho il mega iper cappello guarda che forte il wuglets ce l'ha anche questo vladimir purtroppo però mi scomperà il culo lui potrebbe essere un bel problema ce l'abbiamo contro adesso si a 668 di ap io ho 698 però lui è vladimir a roncraver che fa male con la ulti gli ha fatto 7000 danni ah lui ce l'ha quasi energizzato questo non ti servito più a un cazzo dopo il primo round con eh l'untilever è forte proprio invece eh ho capito mi è uscito questo via 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 bravo ho tirato un po' ah cazzo c'ho la zonia io vabbè io ho tirato ma che range c'ha vladimir sull'espello what? ah ma c'ha il galeforce ecco cosa mi ha dashato via non lo so my bad me la son giocata male anch'io ciao giulio grazie del resub minca la statica in un round mi ha mi ha fatto più danno di 3 round di cosa no 3 more items mi devo fidare di fucking cosa non ci altro dobbiamo secondo me dobbiamo fare dobbiamo prendere sicuramente dobbiamo sicuramente prendere healing redaction non è bastiamo e basta no tanto sicuro solo vlad tu dici? si perchè non la tengo con modalità fissa? non lo so la metteranno mi sa eh speriamo ancora gin no basta gin basta vabbè oh che palle oh gin ha rotto il cazzo comunque il peggiore si bro ogni volta che c'ho gin è un dito al culo penso sia quello meno interessante di tutti cioè tipo il pike è divertente cioè non so perché hanno tolto Samira tipo Samira era divertente mh è vero premiava che ha tanti stun si che doveva avere ct beh già i tank sono fortissimi pensa con Samira eh maybe è vero oh nasus questo qua sta fungendo eh cioè non pia danno no ah c'ha il Sunderer Death Dance e Sunderer Sky ok contro lui serve il Morello mi sa ma è un po' too much ah ha trovato Mystic Punch bro uff oddio close eh questo è good è Nami guarda le cure di Nami ma quindi è forte Nami oh come karma penso ma no fa cagare questo io ho trovato la passia di Leblanc e con Leblanc che succede se la prendo facciamo un casino doppio clone ah l'hai presa no no l'ho presa no ho preso la W di Renata che secondo me è comodo visto che posso non scoppiarmi da un momento all'altro ma perché su di me sto prendendo la pianta eh eh bro pardon sei morto mi ha tirato ho pensato di fare più danno Briar mi ha tirato due auto non so perché fa così male eh oh that's ok io ho anche il Fortalitos ecco qua chi fa male orca miseria where plant al momento giusto ok fighter die fighter die sono vivo oh nice molto bene grazie per il tip l'avevo realizzato che non dovevo entrare in faccia io direi morello più oggetto casuale qua il morello lo voglio prismatico senza roll non mi piace ti esce un bidone e basta tipo qua è uscito shadow flame o perplexity c'è gente ci sono avversari con tanti nemici più di noi con tanti hp di noi non penso vado di shadow flame non lo so ah magic pen però no dai shadow flame fanculo perplexity è che non hanno troppi hp di me capito e faccio sempre in tempo a comprarlo preferisco void a fare sto punto mamma mia che vergogna sta roba mamma mia ma è vergognoso bro hai fatto tanti energizzati bro non mi riusciva a toccarevi perché ho 800 di movement speed cioè guarda ho 700 di base senza la ulti perché è così tanto mi arriva 800 per home guard se prendo danno mi si toglie ma essendo che io attacco da questa distanza dallo stealth e non mi riescono a fare danno vedi ah ok interessante ma mia questa è merda prendo questo è devastante sta roba full energized vain ma io ho rollato del di lusso eh si no c'è andato abbastanza bene entrambi devo dire io ho 1090 di ap e devo ancora prendere l'ultimo oggetto ok what's the plan aspettiamo io faccio facciamo così ok l'ho ucciso con un acusto tizio mamma mia non c'è il paragone eh però ci sarà il vladimir mi sa eh se la mappa è larga vinciamo contro vlad il problema è se ci mette con la mappa di merda di nuovo con i fiori si si se devi kaitare non puoi kaitare martian 23 morto ok siamo uno contro uno cioè due contro due io penso che le swifties non me le cambio ne vado infinity io penso che vado full stat qua io posso andare di prismatico c'ho un roll oppure prendere qualcosa di effettivamente interessante prismatico lo faccio lo faccio oh runcraver oh cazzo anche il detonation orb però ma perché siamo curati? ma non capisco in base a cosa cura non lo so dei do un dubbio c'ho il detonation orb che è fortissimo c'ho runcraver che è energizzato runcraver non sai neanche quanto danno faccio oddio detonation con la vina eh vabbè ma sono broken entrambi guarda i danni di vladimir con runcraver penso anch'io 15.000 danni ha fatto vladimir vabbè miss il target io penso che ignoro vladimir e vado su kaita eh eh i'm dead fuck è comunque broken l'adimir di merda ok dato un pochino ma wow wow il goat il goat la gioco le branc la gioco eh bro ti ha fatto 2.000 danni in pochissimo tempo eh ho visto infatti ero però non sapeva che stavo lì dentro li ho aspettati no bro ah questo fa cacare questo fa cacare credo anche a me però fa ridere fanno tutti un po' schifo purtroppo io ho comprato stats a morire ben barrierial non lo so tanto il ghost non mi serve a niente vediamo io ritorno su kaita e cerco di ignorare vladimir oh shit eh no mamma mia bro ma fa c'è ma io che devo fare 1200 eh dobbiamo cercare di tenersi il vladimir buono credo ah magic pen sto tizio si secondo me movement speed la lascio e vado infinite cioè ne ho già tante ma ha senso per te farti fare tipo il caenic qualcosa del genere no dici no è che non riusciamo a hittarlo questo è il problema cioè io non ci riesco almeno ma tra pull e cosa non lo so smetti di entrare nel range vedi che ti aiuta e ho capito però anche il tizio cammina e quando si è tutto veloce non è così easy eh ho preso tutto mi fa impazzire non devo andare mi lì va bene kaitiamo vediamo allora lei è morta buono aspetta aspetta che c'è la q ora c'è la mamma mia che roba però no secondo me dovevi fare il giro lungo e tornare da me eh sono un pagliaccio bro c'ho sta voglia di andare mili range porto di dio non aveva senso quello che hai fatto ma tanto c'era la pull e quindi non potevi killarlo più che altro pensavo cioè nella mia testa penso sempre di avere abbastanza danni per entrare e one shottarlo ed è tipo tre volte che ho fatto così entro mi becco una q che mi fa 2500 danni e lo cura per 2000 e penso oh fuck il problema è che tipo non è un pensiero cioè tipo parte dal mio midollo spinale no faccio che vladimir lo ammazzo qua due auto mi vado in range tiro un auto mi tira una q e mi fa 2500 danni e sicuro a 2000 e penso oh shit ah comunque gli è andata estremamente bene non è un pensiero c'è un non lo so un campione che ci distruggiva abbastanza secondo me potevamo vincerla grazie Twitch dei poveri per il sub gentilissimo lo so che dà cioè un pochino meglio era ok poi quella mappa è un po' un tumore perché è piena di muri pure vedi non vedi sì però potevamo farcela che io mi dimentico che c'ho la w di renata che comunque mi tiene in vita però il fatto è che poi dobbiamo fare dei danni ma lui va in pozza poi fa la zonia è dura e c'è gli è andata molto bene con quell'oggetto senza quell'oggetto senza il witch cup non avrebbe fatto quella roba lì va bene ci vediamo per il prossimo rene va bene perfetto